Hey, state per guardare la prima puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast, con ospite il divulgatore scientifico Barbascura X, e noterete subito essere un po' diversa dalla scorsa stagione. Non è più registrato da me in Sardegna, è registrato a Milano, e non siamo più in uno studio, ma nel prestigioso teatro Franco Parenti, che è una location fantastica, non potevamo chiedere di meglio. Sono un po' emozionato all'idea di mostrarvi questa puntata, perché dalla pausa forzata che è stata imposta al programma, ovviamente dall'epidemia di Covid-19, è passato un anno e mezzo, ed è stato un lungo anno e mezzo di idee per rilanciare il podcast, di fallimenti, di telefonate infinite, e anche di tentativi di spiegarvi perché non avessimo ricominciato a registrare finito il lockdown, senza però dirvi come mai. La ragione era questa, volevamo fare qualcosa di grande, mettere insieme tutta una squadra, trovare il teatro, un modo per far funzionare tutto, e non è stato semplicissimo. A tal proposito, quindi, un ringraziamento a Gimme5, sponsor storico dello show, e a Tridon, che hanno deciso di imbarcarsi in questa cosa con me, non era affatto scontato mi dessero tutta questa fiducia. Ma l'hanno fatto. Tridon ha peraltro fatto un ulteriore passo avanti, una cosa che non ha mai fatto per nessun altro al mondo, se non per la community di Breaking Italy. Ve la faccio vedere subito. Per chi non lo sapesse, Tridon è un'azienda italiana che io amo e che si occupa di piantare alberi per perseguire obiettivi che abbiano un impatto sia ecologico che anche sociale. La cosa interessante è che tramite un sistema proprietario permettono di comprare degli alberi e donarli digitalmente a qualcuno, che invece di vederseli recapitati a casa, sa che quel particolare albero sarà fisicamente donato ai contadini dei paesi in via di sviluppo nei quali Tridon opera, in Africa, in Asia, in America Latina. Quindi, da una parte, noi che piantiamo abbiamo una sorta di pagina simile a un profilo Facebook dedicata al singolo albero, con tutti gli aggiornamenti sulla crescita dello stesso. I contadini hanno queste foreste, dei cui frutti poi potranno beneficiare, e il pianeta ha più alberi, perché l'obiettivo importante è anche e soprattutto quello di contrastare la deforestazione. Ora, noi, la community di Breaking Italy, ha una delle foreste virtuali più grandi d'Italia. Al momento ospita più di 4300 alberi. Sono tantissimi. E Tridon, per salire a bordo dell'impresa epica che ci ha portato a fare il podcast così come lo volevo e come lo vedrete, ha creato un albero speciale in edizione limitata. Si tratta di questo. È un albero di caffè che viene piantato in Ecuador. Sembrava molto adatto al sottoscritto. Ha una grafica unica dedicata proprio alla seconda edizione del podcast. Per ottenerlo potete passare soltanto tramite il link che trovate in descrizione al video. Nessun altro può averlo, ma chiunque al mondo, un tedesco, un giapponese, un francese, vedrà quella particolare grafica che è disponibile soltanto durante questa edizione. Finita questa edizione del podcast, non sarà più ottenibile. Ora, sono riuscito a ottenere anche uno sconto per voi, che però ha tempo ancora più limitato. Lo si può utilizzare solo una volta e dura sino al 9 novembre 2021. Il codice è podcast shy15, trovate quello in descrizione, lo vedete a schermo in questo momento. Mi rende super contento questa cosa, soprattutto l'idea che chi non sa cosa sia il podcast, non ne ha mai sentito parlare, addirittura dall'estero possa incappare in questi alberi piantati da qualcun altro e non sappia bene cosa pensare. Era tutto, vi lascio alla prima puntata della seconda stagione del Breaking Italy Podcast. Prendetevi qualcosa da bere, mettetevi comodi, sarà interessante. Buonasera, buonasera, grazie a tutti, grazie mille, grazie, grazie mille. Grazie per essere alla prima puntata della nuova stagione del Breaking Italy Podcast, lo apprezzo molto, apprezzo molto che siete qui, apprezzo molto anche l'investimento emotivo che mi sto dimostrando. Se siete agitati, facciamo finta che lo siate, immaginate come posso sentirmi io, che dieci anni fa a casa dei miei genitori pubblicavo un video su YouTube a caso e adesso mi trovo qui. Quindi veramente grazie mille, è molto emozionante. Poi sono alla guida di un gruppo di persone esperte, bravissime, tutti che contano sulle mie capacità. Insomma, non hanno la minima idea, nessuno ha la minima idea di quello che sta succedendo, quindi la cosa migliore da fare è mostrare la defiance davanti a tutti in un palco così, di questo tipo. Quindi grazie. Non ne hanno idea, davvero. Quindi, siamo qui, riprendiamo da dove abbiamo lasciato qualcosa come due anni fa, sembra meno o più, non so, a me sembra passata una vita. È più o meno la stessa cosa, è cambiato qualcosina ma vi assicuro che quello che vedrete sarò io, che parlerò con un ospite che già conoscete tutti, il mirto è lì sul tavolo, è tutto come prima. Al solito, grazie. Al solito cercherò di avere una chiacchierata il più possibile profonda con l'ospite che sta per entrare, in modo che, insomma, sia possibile conoscerlo un pochino meglio, poi voi tutti o quasi lo conoscerete molto molto bene. L'ospite sapete chi è? Barba Scura X, è un divulgatore, è un chimico, è uno youtuber, lo devo dire un po' così, mi spiace per lui, fa anche un sacco di altre cose, almeno lui fa un sacco di altre cose, è uscito con il suo nuovo libro che parla di fine del mondo, quindi preparatevi sul mood della serata, ha un nuovo programma su D-Max che si chiama Micromostri, abbiamo appena scoperto che sarà a Pechino Express, insomma, vi chiedo un applauso per Barba Scura X. Pugnato va bene? Ricambio. Sento, lo percepisci? C'è un certo disagio. Cioè, adesso facciamo il possibile per aumentarlo. Perfetto. Allora, come tu sai, ti ho già detto, noi abbiamo una tradizione all'inizio del mio podcast, quindi immediatamente la... La rispettiamo. La rispettiamo. Alla goccia, ovviamente. Certo. E questo è solo il pre. Molto bene. Te l'ho detto che io sono leggermente dislessico, a un certo punto iniziano a mischiarsi le N con le M, le A, con le B, le... È tutto giustificato. E in questo caso, diciamo che la scusa è quella, non è vero, vabbè. Vabbè, ma sono sicuro che saranno tutti molto clementi. Senti, iniziamo, come iniziamo? Iniziamo come si fa nei media tradizionali, quindi, ma le tue cose, cosa stai compiando? Senti che mi sento molto preso perché hai detto youtuber, mi dispiace. Io sono onorato di essere qui. È una menzogna. Lo so che tu c'hai questo problema, questo sassolino della scatola. Secondo me è bellissimo. Secondo me è una delle cose più belle. Ok, allora parliamo di questo. Ti racconto una storia. Qualche mese fa eravamo qua in teatro. Io e il mio collaboratore Matteo, e c'era qualcun altro dello staff, ma poca gente. Ed eravamo seduti qua, stavamo provando le luci. Ovviamente le persone che c'erano ci hanno chiesto chi sarebbe stato il primo ospite. Matteo, che è un venditore, gli ha detto, c'è un divulgatore, si chiama Barbascura, ha fatto questo, D-Max, i libri, vende tantissimo, è uno dei migliori divulgatori d'Italia. E allora è stata venduta bene. E loro hanno detto, ah ok, perfetto. Dice menzogno. No, erano tutti convinti, perfetto, grandioso, un inizio fantastico. Quindi noi eravamo lì, ci sediamo qui, e si vedeva che avevamo vinto, nel senso, e da lì si sente da un tablet, ah, ciao, sono il Barbasqualo! Ok, perché ovviamente noi li abbiamo venduta bene, ma sono andati a cercare se chi tu fossi. Ma tu non hai capito bene. Questo è esattamente il motivo per cui sono nato. Sono felicissimo. Io ho anche detto, no, ma il ricercatore, però ormai... Come tu l'hai capito, cioè, ora lo capisci perché io uso uno pseudonimo, ma ti immagini. Era tutto nato per non farmi riconoscere dai laboratori all'estero dove andavo, perché ovviamente loro non avevano idea di cosa io facessi nel tempo libero. E io ero convinto che a un certo punto, in una conferenza internazionale, magari davanti, non lo so, dei candidati premi Nobel, mentre spiegavo i miei progetti, il mio lavoro, eccetera, qualcuno fosse andato a vedere il mio nome e gli sarei uscito io vestito da banana. Ah, quindi è per quello che hai scelto. E' tutto nato per quello. Poi ha avuto un sacco di risvolti, poi c'è anche una filosofia dietro. Io sono molto... Sono un ammiratore del nome che scegli, quindi per me è molto importante. Ok. Quindi, cioè, hai intenzione di continuare così, in un senso? Sì, 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 speriamo. Oddio, adesso è la situazione drammatica, perché non lo si immagina. Più, ovviamente, una cosa diventa grossa e più c'è qualcuno che non se ne frega niente, cercherà di rovinarla giusto per poter scriverci qualcosa, perché ormai sappiamo che funziona la stampa. Se ci sono degli attacchi sul fatto che tu usi questo nome... Ma no, ma non sono attacchi, sono di persone che cercano degli appigli, perché hanno delle idee un pochino strane, diciamo. No, ma... Sì, no, prego, prego. Sono persone che hanno delle idee strane su come funziona la scienza e quindi pensano in qualche modo che, dato che io vesto in maniera buffa e non mi prendo sul serio, è proprio una cosa che io ho sempre voluto fare, perché, chi se ne frega, non è che io devo apparirti bello, bravo e elegante per essere preso sul serio. Questo è quello che fanno dei venditori di fumo. E l'ultima delle cose che voglio fare, mi sono allontanato dall'ambiente accademico proprio per questo, perché era tutto imbellettato, era tutto pinto, era tutto lontano. Io volevo soltanto divertirmi, senza manco pretese. Quindi, se qualcuno si attacca a questo per dire che, quindi, qualcosa che io ho detto in qualche modo non è vera, è un problema suo. Non pensi che ti precluda delle strade? Chi se ne frega? Ok. Non ti interessa assolutamente? No, non mi interessa assolutamente. Io non sto facendo delle cose, delle scelte per delle strade o per quello che potrebbe succedere. Io sono qua perché ho sbagliato strada, sostanzialmente. Quindi, io continuerò possibilmente a sbagliare strada, mi lancerò in tutti i progetti possibili, immaginabili, anche se possono apparire strani e quant'altro, ma semplicemente perché ho sempre fatto una sola cosa, cercare di divertirmi. Quindi, secondo me, se io continuo a farlo, magari qualcuno che vuole divertirsi con me, lo troverò sempre. E se ci divertiamo parlando di scienza, perché questa volta dovrebbe essere... Ok. Però non tutti i divulgatori la pensano così, corretto? Tu che rapporto hai con i divulgatori? So che è brutto, per quello che sto facendo la domanda, altrimenti non te la farei. No, no, in realtà potrei dire che era brutto, però non è manco vero, perché questa cosa è sbagliata. Direi che i divulgatori non c'è un'entità, un agglomerato, ovviamente. C'è una community. Di questa community ci sono elementi e elementi. Io all'epoca venni frainteso, diciamolo in questo modo, perché ovviamente io ero appena tornato da Amsterdam, nessuno aveva idea di chi io fossi, né io avevo idea di quale fosse l'ambiente in Italia. Ignoravo proprio che ci fossero dei divulgatori scientifici. Qualcuno mi ha detto tu sei un divulgatore scientifico, altrimenti me l'hanno pioppato la divulgazione. Ok. E in pratica, quel che è successo è che, dato che io feci un po' di roba, insomma, di un linguaggio particolare, il linguaggio tipico internetiano, quello della nostra generazione, quello che a me piace, e voglio essere provocatore, voglio usare la satica, l'ironia, per fare certi tre temi. Ad alcuni, quelli della vecchia scuola, inizialmente non piacque questa cosa. E col senno di poi, io gli dico pure che li capisco. Perché i primi attacchi, io me li ricordo, ci fu una persona che mi scrisse un articolo intero, lunghissimo, senza citarmi mai. Poi diceva, c'è questo tizio che parla dei peni dei delfini e dei panda che si devono estinguere, una cosa obbriosa, una vergogna. Però l'attacco non era sui contenuti, era sul fatto che io facessi dei video. No, proprio specificamente sul fatto che facessi video perché sono uno youtuber. Perché la vera divulgazione, diceva questa persona, è soltanto quella cartacea, anzi quella scritta. Puoi fare anche un blog, però è sempre meglio che fare i video. Perché secondo lei, secondo questa persona, se tu facevi un video, stavi avvicinando alla scienza delle persone a cui la scienza non interessava. Delle persone che non erano lì per il tema scientifico, ma soltanto per farsi una risata, eccetera. Che poi era esattamente il mio obiettivo. E lì nacque un battivecco con queste persone che sono pochissime, si contano sulla punta di una mano, fecero un casino. Perché le persone che fanno casino sono sempre poche. Poi sembrano tante per una questione di cassa risonanza, però in realtà è... Questo articolo dove compare? Non te lo dico così, non lo cerchi. Ok. Lo cercherò ugualmente. È una testata grossa. Ok. Molto grossa. Però, va bene, lo dico. Mi fece un articolo sul National Geographic. Potete andarlo a vedere. Ok. Non stiamo parlando di... Però non se lo lesse nessuno, a parte io e sua cugina, perché ovviamente era cartacea. Però tu dici, questo è il passato. Tu dici, è il passato questo. Questa è una roba che è successa... Allora, questo è un passato. È un battibecco che io ogni tanto vedo ritirare fuori, o meglio, sempre dalle stesse persone. Però ci tengo a dirlo. Il fatto è che io all'epoca, a me nel termine di divulgatore scientifico, non me ne frega niente, io faccio quello che mi diverte e parlo di quello che mi diverte, che comprende la scienza. Punto. Chiamatemi come mi pare, se volete faccio usare la scientifica, va bene, non me ne frega niente. I titoli li ho sempre... Non li ho mai sopportati. Me ne hanno dato uno, poi mi dicono, non sei quello. Fate voi. Che cacchio volete? Però adesso la situazione è migliorata. La situazione è migliorata. Io ho sentito veramente negli ultimi anni un avvicinamento incredibile da parte di tutta la comunità di divulgatori scientifici, tutti. Un'avvicinanza incredibile. Persone che addirittura a livello accademico, universitario, consigliavano i miei video e io rimanevo in imbarazzo perché ovviamente sono vestito da squalo e da banana. Puoi capire qual è il problema. E io quello l'ho preso come un traguardo personale perché io non so se esiste una scuola di pensiero della divulgazione, sicuramente esiste, però penso che se la divulgazione sia in qualche modo l'avvicinamento a delle tematiche da parte di persone che potrebbero non sapere che quelle tematiche sono belle. No, perfetto. Ma ti facevo questa domanda perché io so che tu nel 2020 hai vinto un premio, il premio della divulgazione. Si, stronzo. Eh, ma io faccio i compiti. Eh, va bene. So che hai vinto un premio dei divulgatori italiani. Sì, era il premio Giancarlo Dosi della divulgazione scientifica italiana per un libro, sì. Ok, che è il tuo libro del quale parleremo dopo. No, è vero, il primo libro. Peggiorando la situazione ne ha 23, in un senso con un corso. Quindi hai sbancato questa cosa, hai battuto vari divulgatori. So che non erano tutti d'accordo con l'altra scelta. No, no, assolutamente. Non puoi immaginare. Quindi? Una persona che poi ironicamente è sempre la stessa. Ok. Vuoi fare il nome? No, 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 no. No, perché non mi va, non voglio creare polemiche anche perché io spero... Sì, nel post aggiunto. Io spero in futuro che ci avviciniamo perché io sono per la pace. Non sono per... Cioè, veramente io non ho risposto mai fin quando proprio non siamo arrivati alla saturazione. Risposi in questo caso perché c'era una situazione proprio di accanimento proprio assurdo. E siamo arrivati al punto che mi hanno contato le parolacce nel libro. Ok. Cioè, proprio mi hanno contato ha detto 74 volte cazzo 23 volte vaffanculo e quindi questo era il motivo per cui non... Poi per carità io stesso dico c'erano dei libri in gara che erano bellissimi. Io avrei consigliato ad esempio c'è un libro molto bello ve lo consiglio che si chiama La solitudine del mammut di Sandal ve lo consiglio è molto bello io avrei votato quello. Però non è colpa mia se mi hanno votato. Tu te la puoi prendere con me però fino a una certa io ho scritto il libro poi lo messo là. Per sottolineare che effettivamente c'è questo astio ecco Sì ma ti ripeto proprio perché era la stessa persona alla fine si parla sempre di questa cerchia di persone e non voglio che passi il messaggio che in qualche modo ci sia ostacolo tra noi o loro non lo so se sono dentro o fuori non ci ho mai capito niente il mondo che si occupa di divulgazione scientifica perché in realtà non c'è questo astio anzi uno dei primi che mi piace i complimenti e che piace scoppiare la bomba fu proprio Dario Bressanini e io sono la colpa per cui lui a un certo punto abbandonò Facebook perché lui pubblicò il mio gruppo di divulgazione scientifica italiana pubblicò il mio video sui Panda e scattenò un disastro un disastro e lui si stancò e temò di essere stato io la causa penso più ma oltre queste critiche oltre a queste figure questa figura misteriosa che stai descrivendo che spero a un certo punto emergerà il nome ci arriviamo col mirto sì ma questo tipo di critica ti arriva è tutto è tutto questo tipo di critica ti arriva anche dal pubblico cioè ci sono delle persone che ti dicono non mi piace che dici la parolacce o non mi piace che no no però allora io il problema è che sono cresciuto con una stand up comedy quindi per questo io ho difficoltà a mettere insieme le etichette i titoli le cose non voglio darmi un'etichetta perché adesso ad esempio io sto collaborando con Comedy Central sto facendo dei monologhi sono monologhista per Comedy Central faccio dei monologhi satirici o se volete come non lo so mi hanno detto vuoi farli ho detto sì mettete però in cui parlo anche di scienza io non lo so cos'è quella roba qualcuno vuole per forza sicuramente dargli un'etichetta io non lo so è un monologo di stand up comedy in cui si parla anche di scienza ma io quello è sempre quello che in fondo faccio anche i primi video a volte parlo più seriamente perché ti voglio raccontare una cosa a cui non lo so sono particolarmente avvenzionato eccetera a volte ti voglio semplicemente fare delle battute tipo io credo che il problema principalmente sia anche nel tipo di persona che fa una certa cosa nel senso tu hai un background che comunque non è quello del primo scappato di casa che prende inizia a fare i video come è stato scritto ma penso che ci sia un po' questa paura che tutti inizino a parlare di scienza e che quindi si sia ma no ma sarebbe bellissimo sarebbe fantastico guarda che dipende perché si può parlare anche male ecco aspetta aspetta si mettevo le mani in avanti sarebbe bellissimo se tutti quelli esperti di scienza si mettessero a parlare di scienza ovviamente metto la parola esperti perché il problema è una cosa di cui ho paura e che ho visto succedere e che delle persone che sono semplicemente appascinate della scienza poi si mettano a parlare di scienza e poi ovviamente finiscano in questo vortice del a chiapa like diciamo anche cose che non sono vere perché non hanno le competenze e quant'altro questa cosa un pochino mi spaventa io faccio presente che molto spesso parlo di cose che non sono nella mia branca di competenze io sono un chimico chimico organico è specializzato in green chemist e quant'altro e quindi molto spesso parlo di animali però quello che la gente non sa è che io prima di parlare di un animale perché ci metto così tanto a fare il video non mica per il montaggio il montaggio dell'ultima parte perché passo un mese un mese e mezzo a leggere tutti gli articoli libri possibili su quella specie parlando con esperti e sono così spaventato nonostante sia totalmente documentato sfrutti le mie conoscenze scientifiche acquisite per leggere la letteratura scientifica che non è facile per un neopita diciamo sono così terrorizzato dallo sbagliare che faccio leggere i miei testi a molteplici persone esperte di quello specifico ambito proprio perché voglio che sia felice che sia immortale il prodotto che non abbia detto cazzate che sia scientificamente accurato quindi voglio dire c'è un lavoro dietro che ho paura che casomai qualcuno che non ha un'attitudine scientifica perché casomai non ha studiato e dentro di questo mondo potrebbe non avere però sarebbe molto bello se ci fossero più persone che parlano di scienze sono già più di quanto penseresti sono tantissime ma non sono mai sufficienti perché è un ambiente che effettivamente sta crescendo io credo anche grazie a persone come te se lo dico ovviamente perché sei sul palco guarda io sono onorato ma cioè ho onorato veramente tanto perché effettivamente c'è un sacco di persone che ho conosciuto che mi hanno detto questa cosa e l'ho percepita anche cioè mi sono percepito anche come una prepista nel senso che casomai qualcuno si avvicina a me perché vuole farsi una risata ma poi va a vedersi quelli casomai che approfondiscono oppure vanno a leggersi libri o quant'altro perché ho scoperto che qualcosa che non sapevano essere estremamente affascinante in realtà è affascinante quindi da quel punto di vista io sono estremamente felice ho un sacco di persone che mi scrivono la vivi con cioè con ansia questa cosa di poter sbagliare ed è mai capitato? la cosa di poter sbagliare è tantissimo è capitato certo è capitato a volte perché me ne sono dimenticato di particolari altre volte perché perché ho sbagliato però non parliamo di errori gravi per fortuna altrimenti aver cancellato tutto ok no no non parliamo di cose gravi però è capitato soprattutto nel passato quando c'era insomma facevo fare leggere i testi a meno persone che casomai anche a quello a cui lo facevo leggere sfuggivo in particolare poi casomai buttavo il video online e scoprivo da un esperto che quella parola era sbagliata che l'immagine che ho scelto è in realtà di un'altra specie piccole piccole cosine però mi fanno stare male perché io lo so ok e quindi ci sto parlando ho una domanda in merito a questo tu saprai che io prendo anche delle domande dal Breaking Italy Club e chiedo proprio alle persone di farti delle domande ce n'è una ok che è pesantissima che bello grazie nel senso che è perfetta che è di Pumbalamacumba che dice agli inizi ti è riespresso sul fatto che il covid non potesse assolutamente essere un prodotto di laboratorio quindi andiamo proprio a sciarli adducendo il fatto che il DNA fosse stato mappato ci fossero pochi dubbi e questo mi aveva convinto mi aveva convinto ora sembra che la situazione risulti più sfumata e sembra che in fondo non ci fossero prove sufficienti ad escludere nessuna ipotesi pensi di aver sbagliato la comunicazione contenuti o ritieni che il tuo metodo di comunicare fosse corretto anche in quel caso? grazie per la domanda la ringraziamo perché in realtà c'era forse non aveva capito cosa avevo detto allora le cose non sono cambiate mi dispiace moltissimo perché i giornali hanno fatto sai cosa hanno combinato i giornali in questo periodo prendevano delle dichiarazioni soprattutto di Fauci senza riportare il contesto senza riportare quello che effettivamente aveva detto quindi prendevano soltanto una determinata frase poi amplificata da determinati canali cambiava completamente di senso io ho tantissime persone che mi continuano a scrivere tu avevi detto che era un virus naturale ah quindi è già successa questa cosa a volte non credo che lì lo sia però quelli che lo fanno in genere sono no vax che mi scrivono avevi detto che il virus fosse naturale adesso che cosa dici lasciando intendere che il virus non sia naturale ok allora il fatto è che ovviamente si basa cioè quello che si fa in scienza io ovviamente non l'ho visto il virus lo giuro quello che si fa in scienza è basarci su quello che sappiamo tutt'oggi noi sappiamo che con oltre il 90% della probabilità il virus è assolutamente naturale proprio di recente un altro articolo ha riportato che sono stati trovati tantissimi simili coronavirus in pipistrelli continua ad essere caotica ovviamente mancano dei tasselli su come abbia fatto il salto di specie però non è la prima volta e tra l'altro proprio parlando di cambiamenti climatici ce lo dobbiamo aspettare in futuro questa cosa continuerà a succedere è sempre successo nella storia sono zoonosi i virus non nascono dal nulla e la gente non percepisce quanto sia difficile un virus proprio quando dicono che cioè per farvi capire la proteina spike è in grado di riconoscere le cellule umane la proteina spike è scritta nel DNA ogni amminoacido ha una tripletta di vasi azotate nel DNA una singola mutazione in una singola base azotata fa cambiare un amminoacido fa cambiare completamente la conformazione della proteina spike questa cosa è così complessa che solo oggi cioè proprio nel 2021 di recente è uscito l'articolo si è riuscito per la prima volta a simulare con chimica computazionale si chiama quindi su un computer una struttura tridimensionale di una proteina è una cosa di una difficoltà inimmaginabile per chi non lo capisce immaginate un filamento che si accartoccia sempre esattamente lo stesso modo e il modo in cui si accartoccia crea quella chiave che permette al virus di entrare all'interno della cellula è una cosa di una complessità assurda ovviamente chi non ne sa queste cose immagina che sia semplicemente una piccola struttura una calzatina modificare quella cosa non è una cosa che noi sapessimo fare ci sono delle tecniche ma non era il caso di valutare esiste una possibilità la possibilità esiste sempre esiste la possibilità che domani il sole non sorga però aspetta perché questo perfetto quindi noi non abbiamo le capacità per fare noi non abbiamo al momento tutto quello che abbiamo raccolto noi possiamo basarci sui dati tutto quello che abbiamo raccolto ci dice che il virus è di origine naturale ovviamente non si può escludere che sia stato creato il laboratorio ma questo non si può escludere non deve essere preso nello stesso peso non hanno lo stesso peso no no perfetto non abbiamo ancora nessuna prova di questo nel momento in cui si scoprisse che questa percentuale che io associo al 5% al 2% della probabilità che sia stato creato in laboratorio una cosa ripeto molto improbabile però se si dovesse scoprire una sola prova che è stata creata in laboratorio ovviamente io lo annuncio io perché noi siamo felici di scoprire una cosa nuova no ma non c'è dubbio ma credo che la questione che emerge soprattutto quando si parla di queste cose nel pubblico generale è che magari non è stato creato in laboratorio ma sia comunque qualcosa che si stava studiando in un laboratorio e si è uscito da quel laboratorio per un lavoro ma quello io all'inizio dissi questa cosa non possiamo escluderla perché quel laboratorio di cui si parla sempre è un laboratorio che è stato creato come tanti altri in tutto il mondo perché ci sono tantissimi studi nel corso della storia cioè che hanno individuato delle zone calde in cui si potrebbero sviluppare le prossime pandemie quindi questi laboratori sono lì appositamente per cercare in natura possibili patogeni e studiare per il modo da capirne la pericolosità capire come sta mutando un eventuale ceppo e quant'altro o eventualmente anche trovare anticipatamente una cura se si scopre che è molto pericoloso ok quindi ovviamente non si può escludere perché sarebbe folle ma ripeto non possiamo dare lo stesso peso perché ancora oggi tantissime prove ci mostrano a parte che abbiamo un sacco di storia che ci dice che non sono sia assolutamente naturale il passaggio cioè la cosa più immediata il passaggio di un patogeno da un animale all'uomo che è sempre successo più immediato non si può escludere però ripeto al momento non abbiamo prove a me francamente non fa né caldo né freddo è sempre una questione sulla comunicazione in realtà pensi che sia passato questo messaggio inizialmente quando si diceva no 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 ma guarda inizialmente è stato un bordello ma perché dovete capire una cosa questa cosa veramente non riesce ad arrivare c'ho ancora persone tra l'altro sempre di Novax che mi scrivono tu o meglio voi perché noi siamo noi siamo l'agglomerato entità voi a marzo 2020 avete detto una cosa adesso del contrario e non capiscono che questa è la scienza la scienza non è la verità è un soltanto uno strumento un metodo una chiave con cui noi studiamo noi metto in mezzo studiamo questo mondo e cerchiamo di modellizzarlo e trovare un modello che si avvicina di più a quella che noi intendiamo verità che poi bisogna pure vedere quanto può essere verità o può essere un piccolo frammento di spazio-tempo del nostro universo quindi in sostanza le cose possono cambiare se tu avessi chiesto insomma ai fisici degli anni 60 degli anni 50 se una trottola ruota può cambiare la massa loro ti dicevano assolutamente no che cazzata è ma perché non avevano gli strumenti per verificare una cosa del genere se tu lo chiedi a uno di oggi che gli strumenti ce li ha delle formule matematiche provanzate ti cambia completamente la risposta certo è ovviamente differente capisco perfettamente questo discorso io non ho mai detto che è da escludere tant'è che tempo fa feci delle storie in cui lo sottolineavo ulteriormente io ho sempre detto non possiamo basare il nostro pensiero su una probabilità estremamente scarsa per una ragione che perché a noi piace così perché noi abbiamo scelto che quella è la nostra strada la nostra vocazione soltanto perché ci piace quella spiegazione al momento abbiamo un sacco di spiegazioni che ci dicono che questa cosa è molto probabile e nessuna che ci dice che questa cosa potrebbe essere successo ora scegliete quella che preferite però se tu mi dici che dobbiamo ignorare la tortona e dobbiamo andare a puntare sulla piccola percentuale questa cosa è sbagliata quindi sì questa cosa è quello che io ho detto è quello che io volevo assolutamente far arrivare però sì non si può escludere niente ripeto a livello scientifico potrebbero soldi di sole domani ma in fatto di covid secondo te sono molto interessato la tua opinione in questo tu hai giustamente detto la scienza è questa roba qui nel senso ha bisogno dei suoi processi dei suoi tempi e anche dei suoi cambi d'opinione insomma possiamo dire c'è una comunque la differenza tra gli anni 50 e adesso e oggi c'è una differenza enorme certo però vabbè ti posso fare anche un esempio che mi ha fatto molto ridere stavo sentendo il TEDx di Paul Ruddock e iniziava con un aneddoto di Einstein negli anni nel 42 che stava insegnando a Oxford e lui era professore e aveva appena finito di dare l'esame di fisica e stava camminando nell'atrio e il suo assistente gli ha detto ma professor Einstein ma l'esame che ha dato che ha fatto dare quest'anno è esattamente identico a quello dell'anno scorso beh sì ha la stessa classe ma questa cosa non si può fare mi ha risposto beh sì le domande erano le stesse la risposta è cambiata ok ok ci sta un anno 42 voglio dire io non sono nessuno io non so niente capito ovviamente se in quel momento storico tutto quanto ci dice una cosa io vi comunico che tutto quanto ci dice una cosa se le cose cambiano e qua non stiamo parlando di cambiare la questione del vivo se io sto parlando della scienza in generale questa cosa proprio non arriva è la stessa cosa delle mascherine ti ricordi quel casino che c'era all'inizio la stessa scienza che stavo cercando di dimostrare se fosse utile o meno poi abbiamo detto sì all'aperto no all'aperto tutto quanto perché ci si adattava tra l'altro questa è politica non è scienza però vabbè a volte ci si rifà la gente diceva vabbè ma cambiate decidetevi decidetevi non capendo che non ne sapevano un cazzo manco loro infatti probabilmente il punto credo che sia un po' lì perché è lì che volevo portarti noi abbiamo visto una serie di figure ne avevamo anche parlato in passato di questo che sono un po' emerse in questo periodo i virologi gli esperti c'è stato peraltro questo passaggio interessante che adesso si è forse un po' perso in cui ogni gruppo politico ad esempio ogni partito politico aveva il suo di riferimento quindi noi ascoltiamo di più questo questa cosa è oscena questo non è o è parte del dibattito perché io credo che questo abbia confuso le persone no questa è politica questa qua è esattamente dei divulgatori no no questa è politica questi sono persone perché poi tra l'altro le persone che parlavano non erano mai le persone idonee a parlare erano sempre persone che dicevano è come se io adesso andassi non lo so in mezzo a odontotecnici e dicessi sono chimico secondo me le carie non esistono perché cazzo significa non ha senso il problema è come sempre esistono torno al cambiamento climatico scusami ma è soltanto perché mi ricordo dei percentuali quindi posso prendere esempi 97% degli scienziati concorda che è di origine antropica il 3% dice no non era quel 3% facendo la proporzione che andava in questione no no va bene però non stiamo parlando comunque di percentuali molto ti sto facendo questo esempio perché comunque c'è ancora qualcuno che si fa quel 3% per mettere in dubbio tutto il resto ok ora in questo caso il problema che noi abbiamo avuto durante la pandemia era che noi non sapevamo un cazzo e c'era gente che continuava a dire agli altri cosa stesse succedendo che è la cosa più sbagliata che possa succedere invece di andare in televisione e dire non ne sappiamo un cazzo che era l'unica cosa giusta da fare quando non sapevano loro dicevano no no è sicuramente così è orrore cioè sicuramente così al massimo di se dovesse chiedere a me se dovessi dare una mia opinione se dovessi è penso che sia così cambia tutto allora andavano e dicevano no è sicuramente così ok cosa arriva alle persone arriva che l'esperto ha detto così poi ne arriva un'altra dice no è sicuramente così hanno detto cose opposte quindi non è colpa delle persone no è colpa di questi personaggi è colpa dei salotti televisivi è colpa della televisione ed è colpa della politica perché il discorso queste persone ci sarebbe dovevano semplicemente prendere i dati per quello che erano invece che cosa succede se tu mi metti mi devi dare per forza il la controparte qualsiasi cosa io debba dire devi avere qualcuno che deve dire il contrario ma cosa significa cioè ma se un dato dice una cosa non è che mi devi mettere per forza uno che dice il contrario col cappellino di stagnola che ha su me in testa cioè non è perché spesso queste differenze non erano proprio contrari ad esempio ne abbiamo visto non voglio fare i nomi però abbiamo visto varie figure che dicevano quasi tutte la stessa cosa però quelle piccole differenze erano risultavano importanti c'era chi dice non voglio andare agli estremi e chi diceva il virus è clinicamente morto è tutto finito non voglio andare lì cioè capisci che se tu dici il virus è clinicamente morto però quello è un po' l'eccesso però c'era chi ad esempio diceva no dobbiamo riaprire tutto no le mascherine no non servono oppure servono noi avevamo già dei dati però vedi riaprire tutto le mascherine servono non servono il green pass non è scienza quella è politica la scienza ti dice qual è la percentuale d'azione della mascherina poi se tu decidi di metterla o non metterla è una scelta politica però nel momento in cui tu dici a un politico bisogna cioè devi mettere la mascherina o non devi mettere la moscherina stai già prendendo una posizione e sono d'accordo perché ovviamente devi avere delle figure di riferimento però se mi devi cercare per forza quello che ti dice il contrario quando casomai ci sono già dei dati pubblicati della mascherina si sapeva si sapeva l'efficacia però io ho sentito dire dalle persone mettete la mascherina e nessuno si ammalerà estremo sbagliato quindi metto la cittura di sicurezza e nessuno fa incidenti non ha senso e altre persone la mascherina non serve a niente levatevela tutta persone che avevano il camice quindi erano esperti poi erano tonto tecnici quindi secondo te non c'è non c'è questa io la vedo questo problema del virologo o dell'esperto di quella specifica materia in quello specifico momento che vive un po' il momento da superstar e quindi ma certo che c'è è umano ma ci mancherebbe un sacco di quelle persone che sono ritrovate famose quando prima erano dei topi di laboratorio e forse manco di più magari per loro cioè per parte di un esempio c'era una battuta che faceva un amico mio era perché ho scelto la carriera di ricercatore se non per tutto il sesso la droga il gioco d'azzardo no però sì ovvio ti ritrovi lì in mezzo all'occhio del ciclone tutti che chiedono la tua opinione tu ti senti autorizzato a darla capisci? e sta cosa non va bene come la si contrasta? eh no il problema è culturale noi abbiamo il problema del salotto televisivo è quello il problema non c'è un organo di riferimento che fa una dichiarazione come potrebbe essere l'istituto superiore di sanità e tu prendi quella dichiarazione per quello che è e basta cioè per forza il va bene facciamoci una trasmissione ci mettiamo una parte uno che dice sì e una parte che dice no ma non è così che funziona capisci? perché non è una 50-50 ok fammi fare l'avvocato del diavolo vai io adesso qui magari in sala sono tutti d'accordo con noi è tutto bellissimo però ipotizzo che una persona in questo momento possa ascoltarti una persona diversa un alieno un alieno esatto qualcuno semplicemente meno abituato a guardare youtube ad esempio a seguire certi canali più nuovi e a guardarne invece altri che sono un po' più tradizionali la prima cosa che le verrebbe da dire e ritorno di nuovo qui è ma questo che ne sa cioè giusto ma io sarei felice se uno felice ma cazzo sì farlo ma perché questa persona che si autosina poi diventa una robata io non lo capisco c'è dei problemi enormi perché questa persona è titolata a dire questa cosa ti faccio un esempio mi metto io guarda che se qualcuno mi scrive vabbè ma tu che cosa ne sai io non rispondo perché quello per me è sano è sano tu devi dubitare di qualsiasi informazione e ti vai a vedere però il problema è che se tu dubiti selettivamente casomedi l'informazione più logica e ti vai a buttare sulle altre lì c'è un problema di fondo no ma non è quello che volevo dire ad esempio noi non so se devo spiegare che se è breaking it mi sembra un po' strano ma noi facciamo con molta attenzione il lavoro che facciamo io metto molta attenzione a vari aspetti che sono in un certo senso propri del giornalismo so bene che questa cosa è un po' un problema in alcuni ambienti del giornalismo perché ovviamente anche io ho una community di riferimento che è quella del giornalismo che è molto più grande di quella dei divulgatori ed è molto combattiva ed è molto aggressiva io lo so che in molti casi io posso anche fare tutta la pappardella e dire no voi state sbagliando noi siamo quelli puri e giusti perché ci impegniamo eccetera arriva immediatamente il momento in cui ci dicono sì ma voi non siete dei nostri noi veniamo da un percorso strutturato che ha delle sue regole che ha addirittura un suo ordine voi no cioè voi chi siete questa cosa poi passa cioè questo principio di autorità poi passa è un problema cioè per quanto mi riguarda è un problema perché cioè io da scienziato ti posso dire che questa cosa non esiste nella scienza chiunque ha la libertà di dire qualsiasi cosa e se riesci a dimostrarla non ci frega niente se tu sei un giardiniere un panettiere o un premio Nobel se tu mi dimostri quella cosa che stai dicendo per me tu hai ragione e mi rendo conto che si crea questa situazione non mi è chiaro se il tuo problema è il fatto di non essere proprio psicolari no no mi è chiaro se il tuo no perché tu c'è sto problema con non mi è chiaro se sto problema tu ce l'hai perché pensi che dato se dici qualcosa casomai la stampa o comunque chi ci sente dagli organi di stampa diciamo autorizzati potrebbe dire vabbè ma questo qua che cazzo ne sa è quello il discorso no dico che io sto sempre parlando di community nel senso mi rendo proprio conto che c'è questo attrito che viene da questi percorsi più strutturati non è una questione di oh no ci scrivono l'articolo a me non frega niente sinceramente però ecco noto che poi questa cosa si riflette anche sul pubblico non tanto perché poi il giornale vabbè e quindi mi chiedo se questa cosa possa essere un limite anche per te ad esempio tu ora farai Pechino Express programmone eccetera eccetera divertente e questa cosa ti mette nuovamente fuori in un certo senso dalla community a te non frega nulla però ti mette fuori da quella community questa cosa secondo me può creare delle tensioni qualcuno non delle tensioni dei cioè che ci fa questo Pechino Express non è un vero intellettuale capito? ma questa cosa succederà sempre io posso preoccuparmi di tutte queste cose parlo di me personalmente questa cosa succederà sempre chi se ne frega io non è che parlo a delle persone perché mi devo ascoltare tu io ti dico una cosa se ti va di ascoltare se ti va di controbattere se ti va di dire che non sei d'accordo ben venga ma ci mancherebbe alla fine è un dibattito io il motivo per cui amo essere uno youtuber a differenza di qualcuna è che è che una cosa estremamente è una finestra nel tuo mondo chi vuole partecipare partecipa chi non vuole partecipare non partecipa e soprattutto tu sei sei semplicemente il padrone di casa te lo gestisci come ti pare però ecco il bello di dire una cosa è che alla fine ripeto se tu non sei d'accordo io non posso che essere felice ok ci sta a me io apprezzo molto questo non mi aspetto che la gente dica vabbè questo qua sta dicendo queste cose è vero per forza né tantomeno che dicano è sbagliato per forza questi estremi non mi piacciono perché sono sbagliati perché ripeto chiunque può sbagliare anche io ci mancherebbe è molto sano piuttosto dire ho sentito quello che diceva questa cosa fammi andare a controllare ok quello che faccio cercare di fare da film come fai tu per i da filtro per il mondo mi racconti una cosa che io non sapevo di cosa è successa l'apprezzo dopodiché vado a dire sei una cosa che mi sta a cuore ok parlando di questo ho visto il tuo video l'ho apprezzato particolarmente sui negazionisti quando sei andato ormai un anno fa sarà stato vero è stato un po' di tempo sì è stato a ottobre l'anno scorso l'ho apprezzato moltissimo per varie cose volevo parlare parlartene un po' perché l'ho visto più volte no sì no è per lunghissimo quindi comunque ho un sacco di problemi hai visto più volte però a pezzettone tipo una serie l'hai visto esatto esatto adesso mi riguardo col pezzo iniziale la serie da water non lo nega no allora ho apprezzato principalmente il fatto che tu sia andato lì in piazza vede cosa stava succedendo era una manifestazione ricordami proprio sì no vax non era cioè loro era una manifestazione in realtà contro 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 era c'era dentro di tutto quindi vabbè io ovviamente ero lì per parlare con le persone che non erano d'accordo con ecco questo mi ha un po' colpito nel senso tu sei andato a intervistare a parlare con alcuni di loro ho notato che a parte in rari casi ad esempio il Nobel il premio Nobel che ti ha pregherato il tizio non li contrastavi più di tanto cioè li lasciavi molto parlare e mi son chiesto se fosse perché era problematico nel senso era difficile no no quella è io sei andato là per fargli parlare per sentire cosa avessero da dire e dopo gli rispondevo a tutti cioè rispondevo proprio gli spiegavo a volte non li facevo vedere perché ovviamente altrimenti il video sarebbe durato tre ore però ho capito anche perché poi l'ho strutturato a casa che sono mai facendovi vedere dei pezzettoni delle cose varie o lo gestito così però no era perché volevo sentire quali fossero proprio le conoscenze che avevano spinto queste persone a pensare determinate cose e tra l'altro io non cioè in quel caso ho trovato molte delle persone estreme di quelle che considero più problematiche ma che sono anche poche in realtà noi siamo tanto cassa di risonanza di queste persone e io ci tengo sempre a sottolinearlo che alla fine non sono tantissime che in realtà se tra virgolette smettessimo di dare così tanto peso alla fine si dovrebbe tipo facendoci video e andando in piazza no ma all'epoca era all'epoca era io non ne ho fatti più infatti anche se in questo periodo mi stava tanto voglia però il problema lì era che era all'inizio io ero era un periodo orribile sul web veramente orribile perché tutto quell'anno fu veramente brutto perché vedi una situazione fuori controllo a livello proprio l'infodemia pura un'informazione fuori controllo le cose che giravano erano assurde e venivano autoalimentate le persone avevano paura che è una cosa giustificata quindi andavano a cercare notizie ne trovavano tre ce n'era una molto estrema cliccavano su quella aveva alimentato un sacco di canali che portano di canali giornalistici canali anche su youtube su facebook su telegram quant'altro che portano insomma dei contenuti che non hanno senso proprio degli ripure però una volta che tu caschi in quel vortice sei perso e io ho visto tantissimi amici cascarci per questo ci sono rimasto molto male ho visto degli amici con cui poi erano persone normali erano persone normali va bene però che cavolo è delirio delirio sembrava di avere che fare con altre persone avevano delle idee assurde in testa e io sapevo da dove venivano tutte perché in quel periodo comunque ce l'ho finito in mezzo pure io che ci stavo credendo però dato che ero stato preso di mira da alcuni di questi eccetera eccetera che avevo sentite le parole erano da documentarmi ho trovato dove erano nate tutto quanto avevo fatto mille mie ricerche e avevo visto questo fenomeno per il controllo in cui ero una goccia d'acqua qualsiasi cosa avessi voluto dire o scrivere nonostante i miei mezzi sarebbe stato inutile e invece parlarci direttamente è stato utile beh io in questo modo a parte che alcune cose non le sapevo alcune cose cioè nel senso alcune di quelle cose che mi hanno detto non mi aspettavo che me le dicessero te lo dico francamente per me è stato utile perché abbiamo dato un volto a queste persone cioè io ti faccio vedere che ci sono persone che pensano queste cose e poi ti spiego perché persone che hanno visto quel video il mio video sono tanti di quella fazione io sono stato contattato da molte persone che mi hanno detto mi hai fatto rendere conto che forse perché cioè molti blog siti testate eccetera sono di quelle persone però tu le leggi scritte e ti dà un'impressione diversa poi li senti parlare mischiare argomenti cadere in un delirio secondo me ha un effetto completamente diverso perché pensi che questa comunicazione si muova così tanto a livello logico nel senso io scrivo questa cosa e mi convinco di quello se tu leggi una cosa perché non credo penso che sia una questione più emotiva io ricordo che quando erano gli albori internet perché noi siamo vecchi no? io non ho idea di quanti anni tu abbia sinceramente ho superato i 18 non è chiaro non è chiaro bellissimo no comunque il discorso è che quando c'erano il primo facebook io me lo ricordo trovavo il banner con le cose scritte e io ci credevo ciecamente perché era stato scritto su facebook che all'epoca sembrava una cosa cioè deve essere un giornale che ha scritto questa cosa per forza non ti prendi dei cartelloni con i punti esclamativi non so come cosa immaginare non ricordo nemmeno io i ricordi molto vaghi in realtà però ricordo di aver creduto un sacco di quelle cose mentre io ero uno studente di primi anni di chimica cioè avevo creduto pure io un sacco di quelle cavolate perché è un meccanismo che funziona c'è la nuova generazione che sono nati nell'era di internet che questa roba non gli fa proprio effetto infatti troverai pochissimi giovani che cascano all'interno di questo vortice sono per lo più persone più in avanti con l'età poi ci sono più giovani per carità ma perché? perché non hanno sviluppato questi anticorpi loro vedono una cosa scritta e ci credono fermamente quindi se io leggo un blog la persona che mi sta scrivendo per me è un esperto mondiale di qualcosa perché ha scritto questo blog perlomeno questo è quello che pensano i morti e ci sono cose che vengono dette lì dentro che è veramente la tana del bianconiglio io ci sono finito lì ho trovato di tutto e secondo me dare voce a quelle persone era un modo per dargli un volto ma anche per far dire a loro le cose che ovviamente aveva senso che dicessero loro ok io il video l'ho costruito partendo da quello che mi dovevano dire loro non ho preso informazioni random perché secondo me questa cosa non avrebbe funzionato se io avessi detto c'è chi dice questa cosa e ti spiego perché è falsa è un po' come io mi sto dicendo una cosa e mi do una risposta vado là e ti faccio dire una cosa quello che pensi dopodiché ti spiego e un sacco di persone ci avevano creduto a quella cosa veramente tante mi hanno scritto tu non hai idea quindi tu quel video cioè pensi che cioè l'hai scritto per loro nel senso l'hai scritto per tante persone ma anche mirato all'idea che potesse effettivamente cambiare idea far cambiare idea ad alcuni di questi io sono ormai convinto che molte in modo strano alcuni di questi individui è un po' strano io sono convinto perché molti mi hanno scritto che molte persone che stavano iniziando ad entrare in questo mondo che ci erano già cascati vedendo quel video si sono fatti una risata e semplicemente hanno detto ok ho capito che forse le cose che avevo letto non erano particolarmente vere ma tu sai quante persone continuano a credere che ci sono infatti dei vaccini ho fatto un video in cui spiegavo la storia e un sacco mi hanno scritto dicendo ci avevo creduto pure io poi sono andato a documentare ho comprato il libro e alla fine questa cosa funziona poi che per carità a volte voglio soltanto farmi la risata non c'è un senso tu che cosa hai imparato da quella da quell'esperienza il mondo è un posto meraviglioso non lo sapevi prima proprio in quel momento hai capito che è il mondo adesso ne sono totalmente certo no ma a me in realtà non le faccio spesso queste cose ma perché non vorrei che passasse come un metodo per bullizzare persone che non è mai stato quello l'obiettivo cioè l'obiettivo era sostanzialmente dare delle risposte a delle domande che evidentemente molti si fanno è assurdo però non so sai cosa mi ha colpito di quel video che tu a un certo punto tu intervisti varie persone e poi dici che tra loro erano tutte in disaccordo sì che mi è sembrato molto sensato perché noto spesso che nei gruppi di persone contro come dicevi tu all'inizio si è lì solo per essere contro e spesso non si ha un'idea comune tu mi dici ad esempio che alcuni ti invitavano a parlare con uno e non con un altro perché quello lì quello è innovato no no è vero e dato che avevo cioè io comunque continuo più o meno ad essere dentro alcuni di questi gruppi quant'altro ma li uso come indicatore sociale non li uso per nient'altro è stato dato perché voglio vedere cosa succede deprimermi e lasciarlo là sono i giorni in cui mi sento praticamente masochista e ho visto che effettivamente loro non hanno delle idee allineate loro ogni giorno scrivono un delirio diverso è quello che il giorno prima aveva scritto un delirio su un'altra cosa concorda con quello che dici tu dopodiché ti raggiunge un altro perché alla fine è l'unico limite è la fantasia l'importante l'importante è che si sia contro che ci sia qualcosa di più grande che non ci dicono se mio amico e in realtà questa cosa mi dispiace perché un sacco di quelle persone non sono complottiste cioè c'è una grossa differenza tra complottisti e persone spaventate e io delle persone spaventate a me dispiace tanto di quelle e di recente mi è successa una cosa surreale mi ha scritto una ragazza dicendo che si dovrà andrà a fare il vaccino ma si stava cagando sotto dicendo io non riesco a dormire mi sto spaventando non so che cosa mi succederà è una cosa terribile ho letto delle cose assurde non è che gli ho detto vattelo a fare non ti preoccupare gli ho riportato un po' di articoli per farsi un'idea gli ho dato dei consigli era terrorizzata il giorno dopo mi ha riscritto lei dicendo che è andato tutto bene e tutto quanto e mi ha aggiunto lei mi sono reso conto soltanto là quando me l'ha fatto e non ho sentito niente mi sono tornato a casa sono stato bene stavo tranquillo di che danni hanno fatto certe persone perché lei era spaventata proprio perché lei era a letto tutto quello che veniva detto da quelle persone ed era terrorizzata ed era terrorizzata diceva non usciva a dormire era in panico ha detto è un po' come essere in panico perché stai salendo su un aereo capito si può precipitare per carità qualcosa mi succede però siamo arrivati a questo punto a me dispiace tanto perché poi tra l'altro le persone che sono spaventate non sono persone libere di scegliere perché non hanno avuto gli strumenti per scegliere se tu sei finita per credere a delle assurdità perché le hai lette da qualche parte e sei stato manipolato da quelle persone e ora tu non hai più la libertà di scelta tu sei sei ormai vittima di una serie di pensieri che non ti appartengono e tu pensi che la maggior parte sono comunque persone spaventate la maggior parte delle persone che abitano quei gruppi sono persone spaventate è per quello che ti dico che la grossa fetta di Novax non sono Novax complottisti sono persone che hanno paura ed è giustificata la società dovrebbe veramente intervenire in qualche modo per arginare però come fai ormai è tutto è tutto un casino è tutto un casino è veramente mi dispiace da morire perché lo vedo ci sono persone spaventate poi di questi gruppi gli mandano l'articolo assurdo se ti fai il vaccino esplodi sono morte centomiglioni di persone al mondo stanno cadendo come zombie hai visto quel tizio è inciampato durante la maratona si era fatto il vaccino se arriviamo a questi livelli qua e ovviamente tu che non lo sai sei terrorizzato cioè come fai a non essere io di quelle persone cioè veramente vorrei abbracciarne abbracciarle tu tutte ok che sono un po' troppe nel caso senza considerare senza considerare che ci sono anche tantissime persone che si sono fatte la prima dose e non hanno fatto la seconda proprio in quei gruppi perché sono terrorizzate se tu ti terrorizzi dopo la prima dose perché ti sei fatto la prima dose dopo hai saputo un sacco di cose e dopo abbandoni proprio il percorso e inizi a dire mi sono salvata per una rotta di cuffie me l'ho fatto la prima dose e sarei potuto esplodere e queste persone purtroppo ormai ci credono cioè capisci che è grave erano persone che si erano vaccinate erano convinte erano tranquille vivevano le loro vite e vabbè questa cosa veramente mi dispiace da morire non mi fa dormire se ti cambiamo argomento vai portate altro mirto se lo chiediamo alla regia regia dov'è il mirto il bicchiere è vuoto così diciamo altre cazzate nota come nessuno please urgente abbiamo sicuramente generato il panico nella regia perché nessuno non se lo aspettavano ok davvero nel frattempo ti chiedo tu hai fatto il ricercatore all'estero dove hai fatto il ricercatore l'avrei dovuto cercare io ma chi se ne frega grazie sì però lavali dopo no io ho lavorato a Parigi all'istituto nazionale de chimie no bugia era l'inserm istituto nazionale de bio biochimica se non lo sai tu no me lo ricordo è una sigla raga è una sigla era l'ospedale Bichat era un laboratorio che si occupava di biotecnologie e poi vabbè ho vinto il dottorato sono andato a lavorare un pochino in tutta Europa sono stato ad Amsterdam e a Nizza principalmente più varietappe tra cui la disperata Epinad e qui vediamo va bene mi sembra adatto è l'unica è l'unica cosa non hai mai fatto il ricercatore in Italia notate la voce come non hai mai fatto il ricercatore in Italia no mai come va a te tutto bene laggiù quindi se non sei mai entrato in contatto con la si si io so questa ossessione delle community piano piano saltano fuori te le mie fitte si si sono entrato sono entrato che cosa vuoi sapere ero curioso di conoscere le differenze guarda tu pensi che ci siano tantissime differenze in realtà non ne ho la minima idea ok quindi tu non sai niente non so nulla non ci sono tantissime differenze in realtà la situazione fa schifunque proprio una merda in tutta Europa così no vabbè il problema è che ci sono i laboratori con più soldi i laboratori con meno soldi generalmente quelli con più soldi ti schiavizzano di più ma stai lavori meglio poi dipende cosa vuol dire meglio però io ho vissuto delle esperienze veramente brutte e veramente belle quelle belle erano tanto tanto belle quelle brutte erano tanto tanto brutte puoi essere più specifico se vuoi e poi arrivava un elefantino allora in realtà dove inizio esperienza più bella no vabbè esperienze belle ce ne sono state tante ho lavorato in dei laboratori molto belli tipo d'Amsterdam io stavo d'addio ero all'interno del laboratorio di un'azienda stavo facendo ricerca però appunto sulla chimica verde avevo tutta la libertà del mondo tutti gli strumenti del mondo mi aiutavano erano aperti tutto quanto benissimo stessa cosa a Parigi i Parigi sono stati d'addio il laboratorio era bellissimo un'atmosfera piacevole ho dato un sacco di cose nuove perché ho lavorato nelle biotecnologie e là io sono chimico come sempre e poi ci sono state le esperienze di merda che sono poi quelle che mi hanno portato a dire vaffanculo a tutti sostanzialmente che sono state dove? Dublino a Inizio ok e Pinale è stata una bella esperienza in laboratorio far ridere però cosa le ha reso dell'esperienza di merda rispetto a Parigi le persone le persone cosa e non è una cosa nuova succede sempre veramente un gioco d'azzardo ci sono moltissimi moltissimi laboratori che fanno cose o scene e quando finisci all'interno di quelle scatole la tua vita è rovinata sei così generico che io non so tutto questo si muove nello spazio vuoto non so cosa immaginarmi c'è proprio una stanza bianca non so cosa immaginarmi allora io io a Dublino ero nel Trinity College Dublino e lavoravo in uno dei laboratori più importanti che c'erano lì non faccio nomi meglio però in sostanza il capo boss super capo chi più ne ha più ne metta ovviamente era un politico non era un professore lui passa la giornata dietro la scrivania o partecipando ad eventi per prendere soldi sostanzialmente per la ricerca quindi noi lo conoscevamo soltanto in quel incontro una volta alla settimana in cui facevamo un punto della situazione appunto lui non si vedeva proprio il laboratorio era affidato invece a una persona che non so come trovare un termine che descriva immaginate un T-Rex dentro i panni di Hitler mentre spara l'impazzata su degli gli ossetti arcobaleno è una persona orribile è una persona orriss allora ma c'era stima reciproca o era solo no lei stranamente mi adorava però io ero terrorizzato dal dire qualsiasi cosa quindi probabilmente era per quello perché non lo farei sì qualsiasi cosa durante i sei mesi che ho passato lì a Dublino nel mio laboratorio cinque persone hanno abbandonato il laboratorio una persona è fuggita in Corea e non so scherzando ok era coreano era là per il dottorato è fuggito in Corea e non abbiamo avuto più sonatezze mi aveva prestato la chitarra mi è rimasta a casa io è una mia amica che era lì e stava per finire il postdoc gli mancavano pochi mesi ha abbandonato il laboratorio e si è trasferita in Italia perché ha detto non ce la faccio più era un continuo presenza di questo passivo aggressivo c'è una persona che ha sviluppato e non sto scherzando disturbi mentali e quando entrava per il Trinity College arrivava davanti la porta del laboratorio diceva di vedere il palazzo ondulare oscillare e che la porta proprio mi sembrava oscena un giorno si mise a piangere e si ripiutò di entrare come se un bambino davanti a a un armadio cosa succedeva di così brutto e allora era passivo aggressivo ti posso dire che un ragazzo ad esempio durante il periodo in cui stavo io aveva sbagliato una reazione aveva messo un po' troppo reagente non particolarmente non tossico ok e quindi vabbè è un errore che può succedere specialmente se si è uno studente quant'altro e la sua reazione a questa cosa ripeto il capo del laboratorio è stata quella di dirgli adesso lo distilli e andarsene immaginati un ragazzo che non ha mai fatto una distinzione in vita sua che è là per imparare che è uno studente che si è messo a studiare articoli eccetera eccetera e lei che veniva e ti diceva ti do tempo due minuti per cioè quindi hai incominciato a fare c'era lei che ha fatto ti sto guardando è rimasta per tutto il tempo a guardarlo in cagnesco mentre lui montava e tremava può sembrare una sciocchezza ma ti assicuro che era terrificante ti posso dire una cazzata giusto per farti capire il clima lei non era mai in laboratorio però c'erano delle radio in laboratorio e lei aveva scelto la stazione e non si poteva cambiare non si poteva cambiare la stazione era quella che era la stazione più terrificante del mondo perché passava a rotazione ogni due canzoni la stessa canzone tu immagina era veramente una tortura infernale era l'inferno io così stavamo là quelle persone con le lacrime agli occhi sotto le cappe un giorno un ragazzo tedesco appena arrivato ebbe l'ardire di cambiare stazione lei si materializzò davanti alla porta in una nube di fumo e pipistrelli quindi era più una questione di persona nel senso lei il problema era una persona eh sì ma è quello il problema basta una persona rovinarti che semplicemente sei il capo ma sto parlando come ora ti sto dicendo cazzate ma tu immaginati cose proprio assurde che ad esempio poi tra l'altro non voglio essere cattivo però è un po' bipolare cioè voglio dire eh pazza fino alle sei appena staccavi beh allora com'è andata oggi che cazzo dice mi ha appena mi hai picchiato con un martello l'altro poco perché non stavo follia follia pura delle persone erano terrorizzate non volevo entrare in laboratorio non c'erano di tutto però peggio molto peggio è stato Nizza Nizza è follia è gente pazza che per qualche ragione riesce a rimanere là però te le posso raccontare tanto che succede in tutto il mondo nel laboratorio più importante di un premio Nobel tra l'altro non faccio nomi che sta a California è un laboratorio bellissimo tutte le pareti a vetro davanti alla spiaggia in California poi immagina è bellissimo le persone sono segregate dentro non sto scherzando lui prende delle persone a lavorare dopodiché li chiude dentro a chiave a volte riporta la brandina e dice voi dormite qui oggi se non mi chiede una cosa una persona si prese un giorno di malattia e lui lasciò un bigliettino sopra prenditene un altro e sei licenziato questa è l'atmosfera che in alcuni laboratori si vive io ho avuto una borsa di studio europea abbastanza prestigiosa avevo un po' più soldi rispetto agli altri studenti e a parte che le persone che stanno a me stessa situazione vengono bullizzati perché che schifo tu sei privilegiato per alcuni capito perché la borsa di studio in una professoressa importantissima dell'imperial college di londra mi disse che lei me lo disse proprio con orgoglio gli studenti che ci hanno la mia borsa di studio generalmente gli fa firmare un contratto in cui gli fa lavorare un anno gratis nel contratto una volta che lo firmi tu devi lavorare un anno gratis non sembra legale non lo so non sono un esperto però a quanto pare è legale nel laboratorio di Nizza io non potevo parlare non potevamo proprio parlare con i nostri compagni che stanno seduti qua perché c'era questo micro management ossessivo per cui tutto doveva passare per questa persona proprio una cosa surreale e se tu parlavi lei si materializzava davanti la porta cosa state facendo era una situazione del genere è difficile pure descriverla eravamo costretti a pranzare con lei eravamo costretti ma questi non sono problemi simili a quelli dei vari baronati che esistono nelle università italiane eh sì per capire se ci sono delle differenze per capire perché si parla spesso del fatto che in Italia la ricerca ha dei problemi sì e i problemi sono umani tutti umani purtroppo ci sono soldi che mancano ci sono un sacco di cose per carità i soldi mancano e non voglio dire che l'unico problema che esiste è quello là umano perché sarebbe osceno sarebbe sbagliato però ti assicuro che lì dove puoi lavorare in qualsiasi contesto anche in uno scabuzzino perché ho lavorato anche negli scabuzzini veramente quando tu sei in queste condizioni è veramente io mi sentivo in apnea sono stato veramente un anno in cui mi sentivo in apnea mi sembrava di non respirare stavo proprio male per questo ho sviluppato io amo la ricerca ho sviluppato un odio per i laboratori non voglio più avere niente a che fare con un laboratorio universitario in particolar modo perché mi ho subito di tutti i colori l'ultima che mi ha fatto questa professoressa è stato che ero stato invitato a parlare in una conferenza internazionale che c'era a Cipro e lì nella sala c'erano cinque primi nober io ero uno dei relatori cioè avrei parlato a dei primi nober una cosa bellissima io ero tutto orgoglioso quant'altro però stavo scrivendo degli articoli e feci l'errore madornale di dire professoressa scrivo tutto quanto per inviare l'accettazione perché generalmente sono sacco i documenti quindi c'è un po' di tempo dopo che ho finito di scrivere questa cosa nel frattempo noi avevamo avuto un litigio per un'altra cazzata sempre assurda e lei mi ha detto quando stavo facendo una cosa no non ci puoi più andare gli ho fatto perché? abbiamo finito i soldi ma i soldi della mia borsa di studio erano dell'Europa non erano suoi non li potevo usare ed effettivamente mi ero accorto o meglio mi ero scoperto che avevo usato questi soldi appositamente per finirli perché erano di lì per comprare un sacco di roba per il suo laboratorio così che erano quelli per te non è legale ho notato che la legalità in questo momento non è legale esattamente però vabbè sti cazzi va bene è successo un sacco di volte io considero che ad Amsterdam quando stavo in quell'azienda ho fatto conferenze grosse sono andato proprio a a tavola con il primo ministro dell'istruzione cioè il primo ministro dell'istruzione olandese mi sentivo cioè ero nella stanza dei bottoni di questo grande organismo e mi trattavano come tale quando tornavo a Nizza era un incubo perché cioè davvero era la classica situazione in cui se parli davanti ad altri senza essere stato autorizzato altro poco cioè cose fuori di testa e tutti prima o poi a quel punto impazziscono quindi non è solo un problema italiano insomma no allora in Italia in realtà non c'è quel poco che sono stato perché comunque ho avuto a che fare con professori ovviamente con altro non ho mai avuto non ho mai riscontrato questi problemi umani però ci sono sicuramente perché sono problemi umani quindi sono umani però sì poi ci sono altri problemi che sono i soldi e quant'altro però ripeto queste cose non ti pesano così tanto sul lavoro cioè ti pesano perché casomai sei frustrato perché non vorresti fare altre reazioni vorresti collaborare e quant'altro però non ti pesano così tanto quanto ti può pesare una cosa del genere in cui effettivamente la situazione diventa drammatica la parola chiave adesso nel mondo cioè nella ricerca è interdisciplinarità non puoi immaginarti di fare una cosa da solo qualsiasi ricerca tu voglia fare devi mettere insieme esperti di diverse discipline perché non esistono più i tuttologi quello era Galileo oggi ti specializzi in una disciplina che era estremamente specifica eccetera quindi se tu vuoi fare delle cose che non so trovano applicazioni in altri settori eccetera devi collaborare con gli altri io quando stavo ad Amsterdam ho creato delle cose bellissime mi sono lanciato un sacco di progetti abbiamo fatto partecipare lavoratori diversi abbiamo pubblicato degli articoli quando stavo a Nizza non si poteva fare perché c'era un altro nome dell'articolo e poi ci sono troppi nomi non va bene perché il suo nome doveva essere in grande doveva essere capito lei non aveva idea di che cazzo c'era scritto in quel articolo però il suo nome a parte ad essere perché era il capo del laboratorio ci mancherebbe così che funziona però aveva fatto dovevamo mettere altri due nomi perché erano su amici che non c'è giocato col progetto e non potevamo mettere io che stavo insistendo di mettere i nomi di quelli che effettivamente avevano lavorato avevano collaborato con me non potevamo metterli perché non c'è più spazio che non ha senso ci sono articoli con 50 500 nomi gli articoli della NASA quelli cinesi che sono infiniti i nomi sono nomi sono i titoli di coda di un film chiunque lavora ci deve mettere non è che ti puoi fare le pippe o pubblicare della roba scadente soltanto perché non vuoi far partecipare un'altra persona che ha più competenze di te perché altrimenti qualcuno pensa che non le sai fare le classiche insomma meccaniche un po' perché gerarchiche c'è questa cosa che funziona e non funziona è molto combattuta però purtroppo che è la questione degli articoli l'obiettivo di chi fa ricerca è pubblicare articoli per questo è assurdo dire ci nascondono cose eccetera perché se io scopro una cosa subito la pubblico perché c'è una competizione chiaro e l'obiettivo proprio è fare articoli quindi insomma questa cosa funziona con un professore che conosco non faccio nomi lui pubblica 100 100 articoli all'anno ok secondo te quanti di questi articoli ha mai letto? a parte no no lui è in 100 cazzo di articoli all'anno ma qualcuno si fa una domanda come è possibile? questo sistema quando finisce? per chiudere questa parte vorrei capire no non finisce non finisce è proprio parte integrante del sistema il bicchiere è vuoto portate il mito dai che parliamo di fine del mondo che culo te la faccio subito la domanda vuoi aspettare il mio? ti faccio la domanda beviamo e mi rispondi mi sembra il modo migliore ho letto il tuo libro il tuo secondo libro oh no non dico l'ultimo libro perché spero che come ci sono altri no vabbè pensavi non ne avremmo parlato hai scritto un libro no 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 ok l'ho letto lo riassumo velocemente è il dialogo tra due personaggi che ti sei inventato ambientato in un futuro in cui la terra insomma sostanzialmente o possiamo dire la razza umana è sostanzialmente andata alla deriva totale te la faccio finire la razza no tranquillo tanto non c'è problema c'è l'importante è che rispondi poi eh 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 la fine della razza umana eh eh allora innanzitutto devo dire che cioè per una persona che scientificamente è a un livello abbastanza bassino ehm mi ha un po' colpito il tuo modo di di approcciarti alla questione perché mi aspettavo che avresti messo ehm tutto tutto il discorso della fine della fine della razza umana in ottica della razza umana tu non hai fatto così tu hai spiegato come nel pianeta si sia partito da una situazione che non non era ok non era eh eh un pianeta che non era abitabile per gli esseri umani che lo è diventato a un certo punto perché una serie di batteri che si chiamano non c'erano batteri eh hanno iniziato a produrre ossigeno e quindi noi di fatto eh grazie ai loro resti della loro fotosintesi noi respiriamo la loro merda lo puoi dire? ve lo volevo dire in modo migliore noi respiriamo la loro merda meglio di così noi senza la loro merda eh non non potremmo vivere qui che sta cadendo sta scivolando piano piano si scende piano piano la sto facendo precipitare però meglio dire merda eh meglio dire scarti cioè grazie ai loro scarti sì ehm noi di fatto la stiamo facendo una cosa simile molto più complessa però ci stiamo mettendo di meno è quella cosa divertente ci stiamo mettendo di meno ma noi di fatto consumiamo delle cose sì e creiamo degli scarti che poi ci stanno rendendo inabitabile il pianeta come inabitabile è diventato periciano batteri a un certo punto tu sembri un po' negativo nel libro cioè nel senso non ho visto non ho visto io dove è il cuore dove è il momento in cui la razza umana si salva il finale ti è piaciuto? non lo voglio raccontare no non si deve salvare nel senso nel mio libro no aspetta no no mi spiego meglio vada no nel mio il mio libro tanto iniziare vuole raccontarti una serie di dinamiche che ci sono in gioco che sono dinamiche naturali però non voglio parlarne nell'ottica umana perché mi piacerebbe spiegare quant'è la complessità in gioco e quanto comunque noi non siamo così importanti in un universo e persino su questo pianeta come detto bene alla fine il pianeta è una palla di pietra dispersa nel universo freddo che ci vorrebbe uccidere tra l'altro qualsiasi cosa di un universo ci vuole uccidere noi siamo estremamente fortunati ad essere qui lo ribadisco in molteplici occasioni però c'è un aspetto della natura umana che è anche un aspetto della natura proprio biologica di qualsiasi specie che è quella di usare tutto quello che si può usare senza pensare troppo al futuro perché è così che in certo senso tutte le specie sono fatte cioè loro un castoro consuma scusate sto facendo casino con la camicia così va meglio voilà se vi piaceva continuo un castoro che costruisce una diga secondo te mi era fotte un cazzo di cosa succede cioè se il castoro avesse inventato la plastica avrebbe fatto le dighe di plastica e si sarebbe messo così poi si sarebbe estinto avrebbe detto vabbè sti cazzo è stata una vita bellissima ok e questo è soltanto per rimetterci in un'ottica comunque biologica e che comunque è una possibilità che dobbiamo tenere bene in mente perché secondo me ogni tanto noi ce ne dimentichiamo che esiste la possibilità che effettivamente succeda nessuno pensa mai che si estinguerà lui cioè esatto si estingue la razza umana però io me la scampo perché è una questione biologica e mentale non si riesce proprio ma lo capisco tant'è che il personaggio che io ho scritto nel libro che ho inventato nel libro è un personaggio che in qualche modo non rappresenta la virtù del genere umano ma l'esatto opposto perché quel personaggio noi ce l'abbiamo dentro è in ognuno di noi ed è quella vocina che ci fa dire ma che cazzo non è un problema mio e esiste in tutti pure in Greta Thunberg secondo me esiste esiste in tutti e io volevo riportare per appunto la situazione in quest'ottica però farti capire quanto è drammatica la situazione e anche per trasmetterti una cosa su cui molti divulgatori scientifici non sono d'accordo amici amici io ho discorso non persone che scrivono artigli vuoi direci il nome per caso vuoi direci il nome di questa persona sì era Mariolina Bubarellina mi vengono in mente solo questi nomi veramente scarsa no comunque il discorso è io sono per il panico sembri il Joker così eh vuoi metterti lì in piedi hai notato che l'atmosfera lo studio le luci ricorda proprio quella scena no dicevo io sono per il panico perché abbiamo avuto modo nel corso dei secoli negli ultimi due secoli di mobilitare le persone dal punto di vista emotivo dal punto di vista della consapevolezza e quant'altro però io sono un procrastinatore seriale e so come funzionano certe dinamiche e al momento noi ci stiamo comportando da barba scura cioè noi se avessimo iniziato a fare qualcosa di concreto per diminuire le emissioni per diminuire l'inquinamento in generale già in non lo so da 50 anni adesso noi non staremmo facendo niente non ci saremmo nemmeno accorti di stare privandoci qualcosa è un po' come quando ti dicono inizia a prepararlo subito si si i miei genitori quando ero a scuola e poi invece arriva l'ultimo secondo in cui ti rendi conto cazzo che stai nella merda e ti precipiti ora siamo in quella situazione io sono per il panico perché le persone cioè tutti anche io devono percepire che siamo nella merda fino al collo che la scadenza è arrivata quindi o fai una cosa subito oppure ma pensi che non si non si sia percepita questa cosa no io ho l'impressione che invece ci sia una sensibilità molto forte allora c'è una si chiama si chiama pessimismo climatico è stato stimato sul 40% 50% della popolazione italiana e in altri paesi anche di più cioè soprattutto i giovani sono molto pessimisti da questo punto di vista e sono addirittura imparanoiati dalla cosa ok e quindi sono quelli che anche vogliono agire immediatamente però d'altro canto c'è un sacco di altre ci sono un sacco di altre persone che non percepiscono una cosa o continuano a inventarsi scuse perché ripeto è umano è quello che farebbe qualsiasi animale in questo contesto però ripeto in questo momento noi siamo ci siamo comportati da procrastinatori è il momento di percepire questo panico e il panico lo dobbiamo percepire proprio come più che imminente non è una questione di domani è una questione di adesso ora subito è uscito di recente l'ultimo report dell'IPCC e è quello che dice non c'è modo probabilmente con la tecnologia attuale o con la situazione attuale di fermare il riscaldamento secondo gli accordi di Parigi sotto gli 1,5 gradi centigradi quindi non ce la si fa diciamo che siamo estremamente pessimisti sulla cosa il problema è che se arriviamo ai 2 gradi centigradi arriviamo al famoso punto di non ritorno che avrai letto nel libro cioè il punto in cui tutto progressivamente va in bacca e a te non resta che rimanere lì e guardare il mondo bruciare perché veramente non c'è più niente da fare e questa cosa si potrebbe ottenere prima del 2100 in base a come molto prima ti ho detto 2100 per l'ottimismo perché mi sono immaginato si stava creando questa tensione nella sala poi tu hai detto 2100 sono sicuro che tutti abbiamo fatto ma allora è lontano e io l'ho detto apposta l'ho detto apposta perché questa è la versione ottimista ed è esattamente questo il feeling che si viene a creare perché il 20-2100 non mi riguarda ma noi fra 30 anni vivremo in un mondo estremamente diverso da quello di oggi è un mondo che noi non riusciamo nemmeno a immaginarci e che fa schifo fa solanzialmente schifo lo stiamo per vivere e il problema fondamentale del decamento climatico è che non essendo un nemico che tu puoi vedere a cui riesci ad associare un volto riesci proprio a identificare riesci a toccare riesci a percepire effettivamente il pericolo non hai l'impressione di volerti interessare cioè forse non esiste ma forse cioè tu dici che esiste però forse non lo prendi comunque seriamente per quanto tu possa essere interessato all'argomento o quant'altro perché è invisibile se ne parla però è una cosa strana proprio è nella natura umana considerate che nei prossimi 30 anni potrebbero tipo raddoppiarsi di eventi catastrofici estremi come precipitazioni estreme nei paesi in cui le precipitazioni estreme sono già all'ordine del giorno uragani maremoti non lo so Godzilla veramente e ad esempio l'erosione del suolo porterà al sicuramente soprattutto nelle aree del Mediterraneo a a perdere completamente copertura forestale e terre coltivate si è stimato che entro i prossimi 30 anni il prezzo del cibo potrebbe aumentare del 25% e si scateneranno le guerre climatiche che sono già in corso sono già iniziate moltissime delle instabilità politiche e sociali che ci sono in determinati paesi sono dovute proprio ai cambiamenti climatici al fatto che la terra il cibo non si trova che c'è poca acqua e quant'altro queste cose si inaspirano ci saranno ci saranno immigrati climatici quello sarà non solo i migranti ma tutti questi aspetti saranno molto tangibili però molto visibili non sarà più solo il cambiamento climatico ma non riuscirai ancora ad associarli al cambiamento climatico ci sono tutta questa serie di cose in gioco che sono tutte connesse tra di loro che essendo estremamente complesse e non essendo cioè la narrazione è complessa qui è così complessa che è difficile da raccontare io riporto la dichiarazione di Randy Olson nel libro il cambiamento climatico è il tema più difficile che la comunità scientifica si è mai trovata a divulgare al pubblico perché effettivamente è così difficile è così complesso è così tutto ramificato che un piccolissimo effetto da una parte produce effetti avvalanga dall'altra parte che produce effetti avvalanga dall'altra parte ed è tutto connesso vi faccio un esempio si prevede ad esempio che se si dovessero fondere i ghiacci di malaya cosa che è prevista prossimamente un milione di persone rimanono senza acqua perché l'acqua potabile inizierà a diventare molto scarsa com'è la tua acqua buona? deliziosa tanto che qualcuno ha iniziato a pensare la chiamata oro blu perché prossimamente potrebbe addirittura essere cioè prossimamente nei prossimi decenni manco fossimo in Kenshiro potrebbe essere estremamente rara e materia da ricchi per dirti se si fondessero i ghiacci della Groenlandia il livello del mare si alzerebbe di 7 metri un milione di persone è sempre un milione comunque non so perché sulle coste perderebbero le abitazioni è tutto così è tutto un disastro e le soluzioni non esistono non c'è una banchetta magica lo scrivo anche nel libro le soluzioni sono tutte da tutti i settori il settore agroalimentare molto adesso si sente dire la carne il problema no il settore agroalimentare è tutto occupa il 30% il settore energetico circa il 30% il consumo di cibo per dire per farti un esempio proprio sciocco lo spreco alimentare il cibo che viene gettato è aumentato dagli anni 60 nel 40% che se tu lo stendi su un pavimento potresti coprire l'intera Cina è stato calcolato il cibo che viene buttato di fatto che viene buttato che viene prodotto che viene inconfezionato e che poi viene buttato si parla di 8-10% delle emissioni globali 8-10% è tantissimo cioè semplicemente se tu intervenissi su questi piccoli settori riusciresti a diminuire tantissimo l'impatto non è un settore preciso che va attaccato non è in un determinato settore che vanno concentrate tutte le energie ma sono in tutti questi settori dobbiamo utilizzare tutte le energie tutte le tecnologie che al momento abbiamo e ce le abbiamo per risolvere questa situazione di emergenza ce le abbiamo ce le abbiamo sai cosa mancano? dimmi tu cosa mancano? i soldi e che quindi non vuol dire che non ce le abbiamo perché i soldi sono le risorse principali e chi li mette i soldi li mette i governi al momento si stima che servirebbero circa tra il 5 è il 20% massimo di PIL mondiale per applicare no il 20 è troppo aspetta sul 10 perché i danni se non intervieni sono in base a quanto è grave la situazione del 40 50 60% del PIL mondiale mondiale ok quindi è questa la situazione è sempre una questione di procrastinazione quindi il problema è interveniamo subito come li convinciamo i governi in realtà i governi non sono tutti uguali però nel senso c'è chi può procrastinare un po' di più e chi invece non può più procrastinare lo sai che quelli che non possono più procrastinare sono quelli che dire potrebbero un cazzo della situazione nel senso cioè al protocollo di Chioto gli USA non hanno partecipato non hanno partecipato nel 97 ed erano una parte fondamentale del problema lo sappiamo bene poi vabbè diciamo che con atti e bassi ricordiamo che erano usciti pure dall'accordo di Parigi per un periodo adesso che entrano adesso rientro però insomma stanno partecipando ma bisogna vedere cioè si parla sempre di ridurre un pochino non viene messo il ban il ban completo sull'industria petrolifera tu pensi che bisognerebbe aggredire il problema in questo modo a prescindere dai problemi sociali che possono derivare no no i problemi sociali derivano se non lo fai immediatamente i problemi sociali ci saranno prossimamente proprio perché non si è intervenuti subito perché i danni che si creeranno saranno radicati su tutto il pianeta e purtroppo visto che i cambiamenti climatici non sono democratici colpiranno in maniera più aggressiva proprio i paesi più poveri o comunque i paesi che sono più suscettibili a un simile livello di disagio però anche uno stop di alcune industrie di alcuni modi di creare l'energia ad esempio il petrolio colpiscono comunque delle categorie fragili cioè banalmente c'è chi cade sempre in piedi no perché semplicemente si tratta di cambiare il meccanismo quando cioè nel senso che se tu le vi soldi in una parte gli dai da un'altra è quello il discorso se tu è vero che vuoi dire oh io sono uno che lavora col petrolio mi levi il petrolio sono spacciato sì però stanno dando un sacco di soldi a un altro settore ci saranno un sacco di persone che adesso non stanno lavorando stanno lavorando in industria del petrolio che potranno essere reindirizzati in quel settore però è un po' come volersi accanire a utilizzare una tecnologia obsoleta soltanto perché vabbè ma ci lavorano tutti ma che significa è tipica cosa succede lo so lo so è il discorso che abbiamo avuto sempre con il col denaro contante ma tutti quanti mi ricordo che crescero la eh Giorgia Meloni che pubblicò l'articolo della vecchietta che era la cassa di un supermercato e che doveva lasciare il posto di lavoro perché non sapeva usare il posto e signò è vecchia e sti cazzi cioè con tutto il diritto ma perché io devo girare con i soldi in tasca vaffanculo cioè perfetto però tu capisci che qui quando questa cosa la moltiplichi per milioni di persone è un problema nel senso adesso io sembro quello cattivo no no ma il problema però che questa è tipo se tu togli il carbone ad esempio alla Cina crei dei problemi enormi a milioni di persone che ti devo dire moriamo e muoiono loro allora morite voi che io devo vivere no 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 muoiono perché il discorso è questo loro sono già cioè morti sono già morti beh Matteo è pericolosamente finito il mirto allora no perché il discorso è come sempre bisogna cambiare la tecnologia non è una cosa improvvisa non è che oggi arriva e dice chiediamo tutto e sti cazzi è una cosa progressiva si parla sempre di decenni di transizione e quant'altro noi decenni non ce li possiamo permettere però vaffanculo facciamo decenni di transizione perché tanto di quello che si sta parlando ma non possiamo non agire perché adesso è proprio la situazione di panico e di emergenza di cui ti ho parlato prima abbiamo un sacco di tecnologie che sono tecnologie nuove rivoluzionari che ci possono permettere veramente di campare di sopravvivere io ci tengo a sopravvivere non so se si è capito e quindi cioè voglio dire lasciare tutto com'è con tecnologie obsolete con roba potenzialmente letale soltanto perché eh vabbè ma ci lavorano un sacco di persone secondo me è proprio un discorso che non si può fare lo faranno in tanti però sti cazzi ok al momento non si può fare altrimenti al momento siamo proprio in una situazione di emergenza tutti devono percepirlo tutti devono sentirsi in pericolo di vita e stiamo parlando veramente dei prossimi 30 anni voi arrivate alla vecchiaia potreste avere la farvi la vostra vacanza dite finalmente mi riposo e invece e invece state state in mezzo alle fiamme dell'inferno cioè comunque questa è la situazione cioè bisogna agire immediatamente in tal senso Greta Thunberg che tu hai citato è stata un buon è stata indispensabile perché a quanto pare avevamo bisogno di una mascotte io la voglio bene per questo perché la consideri tale una mascotte? beh lei è stata una mascotte ma penso che lei ne sia fiera di questo se tu le dici sei una mascotte non lo so se le dici la metto meglio la metto dov'è il nostro Mirto? l'abbiamo finito ma no ma dai il non si vergogni Matteo i bicchieri hanno una priorità ah sono bene no no comunque quello che voglio dire non è ovviamente che lei è una cretina una mascotte nel senso che abbiamo bisogno di qualcuno da mostrare di un simbolo non è il simbolo giusto non è secondo me il simbolo giusto perché nel corso degli ultimi 150 anni abbiamo avuto centinaia di scienziati che si sono messi in prima linea per mobilità della popolazione ma erano scienziati erano brutti erano pelati avevano gli occhiali puzzavano si vestivano male che schifo e quant'altro serviva una ragazzina quando è arrivata una ragazzina ci ha salvato a tutti purtroppo era brevemente da due secoli che il discorso del cambiamento climatico gira grazie beviamo dai così diciamo altre cazzate io ciò se hai visto la situazione sta degenerando tantissimo io credo che tu ti aspettassi solo un bicchiere a inizio no no io ho grandi aspettative ok perfetto ok perfetto no dicevo c'erano quelli c'erano quelli no per dire ti faccio di litigare con Dario Bressani se vuoi perché? perché ne avevo parlato con lui di Greta e lui aveva vissuto con un po' di astio la famosa il famoso passaggio in cui lei se la prendeva con le generazioni precedenti in cui lui evidentemente si sentiva parte o si sente parte adesso Dario tu quel modo di comunicare di Greta cioè how dare you lo trovi positivo? io lo trovo positivo per dire how dare you non penso che si riferisse semplicemente alle generazioni precedenti era più che altro rivolto ai politici della generazione precedente con cui si stava rivolgendo e che il fatto che del climatologi poi lei sia abbastanza estrema beh in più passaggi disse comunque che noi stiamo vivendo una situazione causata dalla generazione precedenti che è vero è assolutamente vero purtroppo io ho una mia teoria personale ok prego cioè io io penso che ogni totti anni io stesso non sono quello del passato se io mi svegliassi ogni mattina io mi sveglio in realtà ogni mattina grandi rivelazioni arrivati a una certa meno male mi sveglio ogni mattina è un bestemmio il barbascura del passato che ha fatto una cazzata o non ha fatto quello che doveva fare o che ora mi tocca a me fare il lavoro è una cosa normale non penso che ci sia da prendere su personale perché le generazioni passate non erano cosci come non siamo cosci al momento noi di questo problema noi stiamo qua a parlare come se noi stiamo risolvendo un qualcosa noi non stiamo ancora facendo un cazzo è quello il problema io vengo qui in aereo verrò 10 volte 20 volte farò avanti e indietro io ad esempio non sono nemmeno della politica del privarci della vita tipo il problema dell'aereo che molti parlano di aereo eccetera è un problema anche se bestemmi un pochino quando vedo che decolla un razzo con dei passeggeri sopra vanno nello spazio per fare il turistico poi ritorna che ha inquinato come 50 aerei che è bello più spesso mi spiegavano che si spera di poterlo fare più volte al giorno che bello più volte al giorno più volte al giorno non vediamo un modello di business si si prevedete che bello vabbè il discorso è che sto dicendo adesso lo direttivo ci sono delle tecnologie dei modi per poter utilizzare la tecnologia che già abbiamo per poter diminuire l'impatto ambientale senza privarci di niente ti parlo l'esempio dell'aereo senza che noi ci andiamo a inventare dei combustibili di chissà quale generazione ci sono un sacco di progetti che letteralmente utilizzano delle reazioni sono dei processi elettrochimici per un periodo mi sono occupato anch'io di questa ricerca per questo ne conosco così bene e catturano letteralmente la CO2 dell'aria quindi la rimuovono la condensano per formarci vari materiali alcuni di questi materiali sono combustibili puoi farci dei combustibili dalla CO2 che hai preso l'aria ovviamente devi mettere un pottio di energia da questo sistema quanto ne hai messo? hai emesso per produrre quella meno energia allora sei un coglione parentesi se invece hai utilizzato energia rinnovabile hai ottenuto sostanzialmente un condensato di carbonio sotto forma di combustibile se tu metti quello negli aerei gli aerei stanno volando riemettendo la CO2 che è stata presa dall'aria quindi il bilancio complessivo è zero tu hai volato senza inquinare ipotizzando che l'energia che tu hai utilizzato nel processo sia comunque non inquinante ok al momento pochissimi impianti sono funzionanti al mondo progetti non hai idea di quanti articoli escono ogni anno su questa questione perché non lo stiamo utilizzando perché costa come se adesso questo sia una scusa costa vivere va bene sono felice di spendere soldi se posso campare un po' di più gli vorrei dire a tutti quanti capito questa è una delle tecnologie che potremmo applicare immediatamente la questione della carbon neutrale significherebbe che i viaggi costano molto di più ad esempio no a parte che c'è il problema del se diminuisce troppo il prezzo di un aereo per questo sono anche delle altre politiche che bisogna applicare se diminuisce troppo il prezzo di un aereo tu fai più viaggi quindi la cosa diventa problematica ovviamente però come dico nel libro chi è che ha il coraggio di dire tu puoi fare tot chilometri in aereo e poi basta a danno nessuno il problema fondamentale al momento è un problema politico il motivo per cui i movimenti come l'extinction rebellion oppure il fridays for future sono così meravigliosi e che hanno mobilitato così tante persone che sono comunque pochissime rispetto a quelle che bisogna mobilitare adesso perché la politica segue le lucciole segue il pubblico se l'elettore chiede una cosa uscirà un politico che gli la dà per i voti non gliene frega un cazzo dell'ambiente ma a noi non interessa nemmeno a noi interessa che tu faccia le cose per l'ambiente puoi seguire gli elettroni scusate gli elettori va bene questo è vero sino a un certo punto perché sinché stiamo parlando di un gruppo di studenti che dice dobbiamo cambiare il sistema e quindi il politico dà loro quello che vogliono perfetto ma quando questo cambiamento diventa tangibile reale cioè non puoi più fare questo la tua vita deve cambiare in peggio no non c'è bisogno noi non dobbiamo privarci di niente al momento se applichiamo immediatamente tutte le tecnologie di cui abbiamo a disposizione se dirottiamo tantissimi dei soldi che stiamo al momento dirottando nei settori sbagliati per interessi economici che ricadono hanno delle ricadute incredibili quando tu continui a dare soldi all'industria del petrolio tu continui ad avere anche dei materiali che costano di meno perché l'industria del petrolio produce anche molecole chimiche che vengono utilizzate per produzione di plastiche e quant'altro quindi aumenti anche il traffio è un casino però se tu li dirotti dall'aria li dai all'altro la cosa diventa uguale hai semplicemente spostato detronizzato quello che era il sistema attuale e hai detronizzato un altro si c'è tronizzato sarebbe passato se non l'avessi fatto a notare sarebbe andata alla grande ma il dubbio rimane comunque sì cioè è una cosa che bisogna fare non possiamo perdere tempo nel dirci le cose funzionano così un tempo si potevano fare questi discorsi al momento non abbiamo più tempo e e sì che ci siano degli altri passaggi che possono portare a questo cambiamento perché dal mio punto di vista io vedo che c'è molta attenzione sulla questione per dire Mario Draghi vivi in una bolla il premio perché magari un giorno quando si arriva non sarà più premio ma in questo momento ha più volte parlato della necessità di fare questa cosa qui ne parlano tutti ma non parlano mai nessuno un cazzo ma perché questo? perché non è popolare al momento non sarà mai popolare no non è popolare al momento perché le persone che sono disettori non lo vogliono non lo vogliono davvero la maggior parte delle persone non lo vuole perché se uno mi dicesse stiamo facendovi pagare un po' di più l'energia ma allo scopo eccetera io quindi c'è perché non è una questione di rottiamo i soldi da una parte all'altra ci siamo arrivati comunque questa cosa ha un impatto no no io ti sto parlando perché a uno non gliene frega niente se tu sposti i soldi dall'industria del petrolio all'industria del vattelapesca finché io sto a casa e sono tranquillo io ti ho fatto un esempio random ti ho fatto un esempio random non so effettivamente perché ovviamente queste sono cose che funzionano su carta poi la complessità del mondo tu puoi soltanto immaginare la immagini sono consapevole quindi insomma sai perfettamente insomma quanto si è compreso il mondo e quante ramificazioni può avere ti dico il peggior scenario mi dicono devi pagare in bolletta un po' di più per un'energia che arriva a casa è tutta prodotta dall'energia verde cosa in realtà dovrebbe costare un po' di meno a lungo andare però va bene ti faccio un esempio con un random io che voglio questa cosa la pago volentieri ok tanto prossimamente la tecnologia o gli investimenti avranno raggiunto un livello tale che i prezzi del mercato si abbasseranno di nuovo però ti sto parlando semplicemente per estremo io sarei felice ma perché io le voglio queste cose se tu non la vuoi qualsiasi forma di cambiamento che possa in qualche modo destabilizzare uno status quo in cui tu ti li vedi e in cui tu sguazzi bene ti fa paura e quindi non accetterai nessuno che possa attaccare però al momento non possiamo continuare a stare così cioè siamo letteralmente in una casa lagata l'acqua è arrivata qua stiamo respirando veramente così tu puoi dire aspettiamo ancora un poco non c'è più niente all'aspettare o poi adesso oppure in questo caso mori è pace se volete va bene io lo dico nel libro se vogliamo morire insomma io accetto ditemelo prima il nucleare va bene da fare questa cosa l'energia nucleare va bene come ho detto nel settore energetico non è il 100% non ero giusto curioso il nucleare è una forma di energia a bassissimo impatto ambientale perché a livello di emissioni non emette quasi niente a molti non piace perché ovviamente vedono i Simpson i Simpson hanno rovinato l'idea nucleare hanno rovinato tutto dici che sono stati i Simpson riesco a girare qualche passaggio hanno avuto il loro contributo perché io quando penso al nucleare penso a un pesce con tre occhi quindi questa cosa non è buona però ecco a parte che io sono stato in una centrale nucleare in Francia e in Olanda che non era manco di nuova generazione e sembrava una farmacia per farti capire di cosa stiamo parlando le centrali nucleari non emettono niente cioè proprio quasi niente sono paragonabili all'eolico e al fotovoltaico come emissioni cioè per farti capire e dato che al momento non possiamo ancora ottenere tutta l'energia che vogliamo solo dall'eolico e dal fotovoltaico invece di dire vabbè allora usiamo il carbone usiamo il nucleare allora c'è molta paura attorno al nucleare e il nucleare c'ha paura per una serie di sempre una roba di propaganda ovviamente e poi ti dico la verità non ho paura nel senso io sono un nuclearista quindi però sto cercando di rispondere no no ti spiego una cosa io quando ero piccolo avviro cioè ero proprio un ragazzo delle scuole superiori ero sceso ero uno di tutti quelli che erano scesi in piazza contro il nucleare contro il nucleare ok perché non sapevo come funzionasse perché ero ignorante in materia perché erano tutti così cernobil pensi a nucleare pensi a cernobil pensi a fukushima che sono degli episodi estremamente cioè proprio non rari unici proprio non avverrebbero mai più nel mondo delle cose del genere a meno che non metti a lavorare veramente tommer simpson in quel caso però non sarebbe permesso non sarebbe concesso mi ricordo ancora cosa dicevo all'epoca dicevo sì vabbè fai il nucleare in Italia lo so già cosa succede poi la mafia che mette le scuole radioattive sotto il suolo sappiamo già eccetera eccetera poi ho scoperto è inimmaginabile pure una cosa del genere c'è un livello di militarizzazione di protocollo di roba di prassi nessuno si avvicina a niente è una cosa proprio super sicura da ogni punto di vista e poi ripeto siamo in una situazione di emergenza io l'esempio che faccio è come costruire una casa al momento abbiamo sti mattoni che sono marroni e pulzano che sono il nucleare che non piacciono a moltissime persone e abbiamo dei mattoni bellissimi che sono fotovoltaico e oligo non so tu puoi costruire soltanto metà casa che fai con il resto dici usiamo la merda quindi usiamo il carbone il petrolio soltanto perché non voglio usare quelli marroni stai già confondendo tutto perché qui quindi sono marroni e puzzano però non puoi usare la merda cioè è un pessimo esempio allora devo pensare sono confuso allora facciamo che il nucleare ci ha disegnato sopra è l'occhitti ok e il carbone è merda che fai costruisci con la merda o costruisci con le holo kitty quale scegli questo è il discorso noi al momento abbiamo scelto la merda io non sono tanto d'accordo ma perché molto bene questo è il discorso hai ragione mi ero un po' confuso vero era un po' Matteo è finito il mirto devo farti un'ultima domanda conta quindi allora perfetto allora perfetto mi è già un po' risposta all'ultima domanda in realtà la risposta arriverà nel caso dovessero riempirti nuovamente il bicchiere secondo me non sono d'accordo mi hai già un po' risposto però vorrei che l'espandessi un po' tu dal mio punto di vista sei lanciato verso una carriera da divulgatore anche se il nome non ti piace forse poi così tanto abbastanza brillante te la sto buffando il resto è un bacio della morte importante hai un futuro brillante ragazzi merda non l'avevo vista così vabbè ok che cosa vorresti da questo percorso perché non è vero che non vuoi nulla cioè se tu stai facendo questa cosa a parte divertirti vuoi arrivare da qualche parte cioè ti immagini un percorso ma io non cioè figurati se mi sarei immaginato di stare qui o con me ho detto mi sarei immaginato immagina tu come sto messo ok se mi fosse immaginato no forse l'ha corretto prima a un dottorato lo ridico è che il bicchiere è vuoto è che il bicchiere è vuoto come cambiamo la frase così non chiedo che mai penso no però non avrei mai immaginato di essere qui ovviamente o di fare queste cose che sto facendo che sono ovviamente cose incredibili che mi rendono mi riempiono di orgoglio perché sono quelle classiche cose che io quando ero piccolo potevo pensare soltanto è bello se un giorno non mi capiterà mai di farle però senza sperarci davvero ho capito io sto prendendo tutto quanto come capita così com'è non ti so dire cosa vorrei fare se dovessi puntare e indovinare vorrei diventare papa e vuoi essere un Piero Angela un po' brutto Piero ti voglio bene però mi piacerebbe fare una cosa un po' diversa Piero Angela è stato un simbolo in Italia per tantissimo tempo è una cosa a parte ci siamo cresciuti tutti quanti insieme Piero cavalcava ai dinosauri era bellissimo però io voglio fare una cosa completamente diversa e non so che cosa non ho mai saputo cosa fare mi basta fare quel che mi piace cioè quel che faccio poi su YouTube il discorso che ti facevo prima perché non è un discorso banale perché secondo me YouTuber è la cosa più bella del mondo nonostante per qualcuno la percezione sia ancora negativa qualcuno come te hai fatto bene a rimanere sul generico perché non vogliamo che stavo dicendo ok io adesso sto lavorando anche in altri settori compreso quello televisivo ma YouTube non lo abbandonerò mai quello che io faccio su YouTube per me io continuo sempre a farlo perché lo amo alla follia il discorso è che io qualsiasi cosa faccia dalle altre parti è comunque un qualcosa che deve rientrare in un pacchetto non importa quale sia persino se fosse un programma 100% mio il pacchetto sarebbe mio ma è sempre un pacchetto quello che faccio sul web è secondo me creativo al 100% cioè mi dà la possibilità di esprimermi al 100% perché io sono regista autore le luci coreografo recito quello che devo recitare faccio tutto io al 100% di merda male però lo faccio le luci sono messe male la videocamera è storta però lo faccio io tutto quanto è quello che esce alla fine non è che vuoi dire è colpa di quello è colpa di quell'altro cioè quello sono io è proprio un pezzo della mia anima che io ti ho buttato lì e io l'ho sempre interpretato specialmente in primo canale secondo lo uso per far cazzo è casino però il primo canale io l'ho sempre interpretato come una galleria d'arte tu vai là ti guardi i quadri umile mi piace lo so che tu non puoi capire perché tu non sei un artista no no però scherzi a parte cioè io lì ci perdono so per un video un mese e mezzo di lavoro lo faccio lo curo in ogni dettaglio lo faccio perfetto quando l'ho fatto lo butto sul web in pasto alle persone che possono apprezzarlo o non apprezzarlo ma è proprio esattamente come appendere un quadro in una galleria e tutto quello che io sto appendendo è in qualche modo un quadro a cui tengo altrimenti non l'avrei mai composto non l'avrei mai scritto non l'avrei mai recitato non l'avrei mai fatto niente ti ho detto tutto il resto le bozze gli scarabocchi eccetera li lascio sul secondo canale quindi per me è veramente un lavoro artistico oltre che scientifico e ci tengo da morire qualsiasi cosa io faccia è qualcosa di mio ti sto dicendo questa cosa è quello che mi piace fare è quello che voglio dire è quello che so fare cacchio ne so non c'è niente che mi venga in mente che sia più completo di questa roba nulla quindi insomma io lo dico con orgoglio se faccio questa roba poi interpreta come ti pare se tu pensi che io faccia non lo so mi metto a giocare a fortnite oppure che per carità bravissimi giocano a fortnite io perdo certo non c'ho mai giocato perderò perderò sicuramente oppure pensi che faccia non so altre cose problemi tuoi io quello che faccio è quello vuoi guardare guarda mi piace come signore e signori vi chiedo un applauso grazie mille grazie mille grazie a tutti a tutti grazie mille spero vi siate divertiti grazie mille a tutti quanti grazie agli sponsor che hanno permesso questa prima puntata grazie fantastico grazie a Gimme5 grazie a Tridom che hanno finanziato tutto questo spero vi siate divertiti di nuovo grazie anche allo staff ringrazio grazie un po' a tutti a quelli che si sentono di dover essere ringraziati la mia voce è andata via mi sarete d'accordo che avevo questo problema buonanotte a tutti ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.